I cavalli sono in partenza, partiti. Ashiki assume il comando e scende lungo la corda nella sua scia Alaska Trip, quindi Pietro e il grande a seguire Guenito Sprint chiude il gruppo, la Venezolana si transita di fronte alle tribune con Ashiki in vantaggio, una lunghezza e mezza Alaska Trip, poi Pietro e il grande quindi Guenito Sprint a seguire la Venezolana, si affronta la piegata di sinistra con Ashiki sempre in vantaggio, un po' di lunghezza Alaska Trip, poi Pietro e il grande a seguire la Venezolana con all'interno Guenito Sprint, si va ad affrontare la dirittura opposta alle tribune, non cambiano le posizioni, con Ashiki sempre in vantaggio nei confronti di Alaska Trip, poi Pietro e il grande e quindi Guenito Sprint alla Venezolana, cavalli lungo la dirittura opposta con Ashiki impegnato all'esterno da Alaska Trip che ora passa in vantaggio, quindi Alaska Trip in vantaggio nei confronti di Ashiki al suo interno Guenito Sprint, all'esterno Pietro e il grande e poi a seguire la Venezolana, gruppetto ben riunito a tre quarti della dirittura opposta alle tribune con in vantaggio Alaska Trip per linea esterna di Pietro e il grande e poi Ashiki, Guenito Sprint e la Venezolana, cavalli lungo la piegata di fondo con Alaska Trip in vantaggio, non lo perde di vista Pietro e il grande e poi la Venezolana e Ashiki a seguire Guenito Sprint, si completa la piegata, cavalli che fanno ingresso addirittura ad arrivo con in vantaggio Alaska Trip, nella sua scia si mantiene Pietro e il grande e poi per linea interna la Venezolana, quindi Ashiki, cavalli ai 350 finali con Alaska Trip attaccato all'interno della Venezolana, a largo Pietro e il grande e quindi Ashiki, siamo ai 200 conclusivi con Alaska Trip che riparte, Alaska Trip guadagna un paio di lunghezza da Venezolana, poi Pietro il grande e Alaska Trip in piena spinta lungo la corda, Alaska Trip si svincola dal resto della compagnia, Alaska Trip che vince su Pietro il grande e la Venezolana. Sono tre le prove con dotazione di 11.000 euro oggi all'ippodromo del Mediterraneo, è il primo subito, la prima subito abbinata alla condizionata del premio FLEM a Moscò, c'è il doppio chilometro della pista piccola da affrontare per i 5-3 anni raccolti al Via. I quattro concorrenti sono in partenza. Partiti. Chardana Prince assume l'iniziativa, scende lungo la corda nella sua scia a cuore del Grago, poi a seguire Perla dell'Etna con all'interno Tu Besli. Quattro concorrenti transitano di fronte alle tribune, l'andatura è moderata con Chardana Prince sempre a graduare in avanti nei confronti di Cuore del Grago, poi in terza posizione Tu Besli a seguire Perla dell'Etna. I quattro chiavalli sono schierati a fila indiana quando si va ad affrontare la piegata di sinistra con in vantaggio sempre a Chardana Prince nei confronti di Cuore del Grago, poi Tu Besli a seguire Perla dell'Etna. Si va ad affrontare la dirittura opposta con Chardana Prince impegnata all'esterno da Cuore del Grago, quindi Tu Besli a seguire Perla dell'Etna. Aumenta il ritmo a metà circa della retta opposta con Chardana Prince impegnata sempre da Cuore del Grago, a un paio di lunghezze segue Tu Besli, poi all'estrema attesa Perla dell'Etna. Cavalli al completamento della dirittura opposta con Chardana sempre lungo la corda, al suo esterno si mantiene Cuore del Grago, quindi Tu Besli a seguire Perla dell'Etna, Cuore del Grago tende a passare lungo la piegata di pista piccola nella sua scia Tu Besli, poi a seguire Perla dell'Etna, quindi Chardana Prince. Cavalli comunque ben riuniti quando si entra in addirittura d'arrivo con Cuore del Grago leggero vantaggio al suo esterno Tu Besli, poi Perla dell'Etna a seguire Chardana Prince. Siamo ai 300 metri conclusivi con Tu Besli leggero vantaggio nei confronti di Cuore del Grago, poi Perla dell'Etna siamo a 100 metri dal traguardo con Tu Besli attaccato all'interno da Cuore del Grago, Cuore del Grago all'interno, allargo Tu Besli, lotta serrata, Cuore del Grago tende a passare, Cuore del Grago completa il sorpasso e vince su Tu Besli, poi a seguire Perla dell'Etna. Da poco è arrivato all'Alcatore di Canicarao e inaugura con questo bel successo di Cuore del Grago che finalmente dimostra i suoi buoni mezzi. Sì, sicuramente è un cavallo che galoppa, forse ci voleva un pochino più di ritmo, sarebbe stato meglio, comunque è bene così. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Partiti. Difenditi di Slancio assume l'iniziativa nei confronti di Papavere e Papere, Challenge Accepted, poi a seguire Perlinia Interna e Albay con i fianchi di My Mistress, quindi Limbo segue Alca Victor. Alca Victor. Difenditi si mantiene in vantaggio lungo la piegata di sinistra, in seconda posizione Papavere e Papere, terza Challenge Accepted con all'esterno Limbo Dance, quindi Albay, poi a circa quattro lunghezze segue Alca Victor. My Mistress a quattro lunghezze segue Alca Victor, cavalli lungo l'addirittura opposta con difenditi sempre all'avanguardia nei confronti di Papavere e Papere e Challenge Accepted in terza corsia Limbo Dance, quindi My Mistress poi a contatto Albay a circa quattro lunghezze segue Alca Victor si va ad affrontare la piegata finale con difenditi impegnata all'interno da Papavere e Papere, quindi Challenge Accepted, quindi My Mistress, poi Limbo Dance, Albay, cavalli in retta di arrivo con in vantaggio Papavere e Papere, al suo esterno si mantiene difenditi, che ora sposta a centropista, poi Albay, quindi Challenge Accepted, cavalli ai 200 finali con in corda Papavere e Papere, a centropista difenditi, poi Albay, quindi Challenge Accepted, siamo ai 100 metri finali con difenditi che ritorna in buon vantaggio, difenditi riparte, difenditi viene a vincere nei confronti di Papavere e Papere, poi a seguire Albay. Sette anni, tanti chili, ma difenditi ancora corre molto bene. Sì, oggi, nonostante i chili, ho trovato una compagnia abbordabile per la cavalla che è e ha corso molto bene. Complimenti. Grazie. Tocca ad essere due anni pronti a cancellare la qualifica di Maiden nel premio Esther Phillips che ne raccoglie sette agli ordini dello starter e che saranno impegnati sui 1400 metri della pista piccola. Gli sette concorrenti sono in partenza, Maiden sui 1400 metri partiti. Sì, la partenza è buona per tutti, qua all'esterno Mr. Tark Sien, quindi Martin Rouge, Run Strong, Siciliano Bello, Shining Star, poi Dreamstime con all'interno Rizzo. si completano i primi 150 metri di gara con Mr. Tark Sien che si porta in vantaggio nei confronti di Siciliano Bello, poi Martin Rouge e Run Strong, quindi Rizzo. Dreamstime e Shining Star si va ad affrontare la piegata con Mr. Tark Sien in vantaggio in seconda posizione Siciliano Bello che sposta al suo esterno, quindi Run Strong, Martin Rouge, poi Rizzo a seguire Dreamstime e Shining Star si completa la piegata, si entra in dirittura di arrivo con Mr. Tark Sien sotto la minaccia di Siciliano Bello, poi Run Strong, Rizzo, Martin Rouge, siamo ai 300 finali con Mr. Tark Sien e Siciliano Bello in lotta serrata, poi a seguire Run Strong siamo ai 150 finali con Mr. Tark Sien in buon vantaggio a due lunghezze di vantaggio a 50 dal traguardo, Mr. Tark Sien mantiene la meglio e vince su Siciliano Bello, poi Dreamstime risale per il terzo posto. Vince quindi Mr. Tark Sien. Bene, complimenti a Marco Schieri, Mr. Tark Sien, buona genealogia, dimostra di avere dei buoni mezzi. Sì, è sempre bello vincere quando è buttante, abbiamo creduto e sono contentissimo. Complimenti. Grazie. Siamo giunti al premio portiere di notte, l'altra condizionata con dotazione di 11 mila euro. sul miglio della pista grande questa volta si misureranno dieci soggetti di tre anni ed oltre. Solo elettrotreno, i cavalli sono in partenza, partiti. sono partiti con in vantaggio Leo Salsim, rimane all'interno dello stallo elettrotreno. Leo Salsim quindi in vantaggio nei confronti di Piselov, poi in terza posizione Salar Glorious, quindi di Playful Dude a seguire Zenas, cavalli che vanno ad affrontare la piegata con in vantaggio Leo Salsim a scandire il ritmo in avanti nei confronti di Salar Glorious, poi in terza posizione Anfiarao, quarto all'esterno e Playful Dude, quinto è Piselov, quindi ancora Idomeneo, Zenas, un Lash the Kraken, si entra in addirittura di arrivo con Leo Salsim in vantaggio al suo esterno, Salsim si mantiene Salar Glorious, poi Anfiarao al largo prova ad avanzare Playful Dude, quindi Sa Steven a centropista, siamo ai 250 finali con Salar Glorious attaccato da Sa Steven che passa in vantaggio, Sa Steven passa e scende lungo la corda, quindi Salar Glorious al largo Playful Dude, ancora un Lash the Kraken che prova a recuperare Sa Steven in piena spinta, Sa Steven si svincola dal resto degli avversari e vince su Salar Glorious, poi un Lash the Kraken che risale per il terzo posto. Bene, Giuseppe Gentilesca, complimenti, abbiamo avuto la sensazione di avere un Se Steven davvero in una forma straordinaria. Sì, guarda, l'ho avuto la fortuna di montarlo oggi, ma secondo me è tornato sugli standard che aveva due anni, oggi è andato forte. Siamo a tre successi consecutivi. Sì, sì, Cavallo sta passando un bel periodo di forma, ha avuto qualche defaianza per motivi di salute, però adesso ha ricominciato a galoppare come faceva a due anni. Affollato Handicap discendente a chiudere il convegno è il premio Farsalo che impegna tre anni ed oltre sui 1500 metri della pista piccola. Partiti. Parte il ritardo chassi e poi si ferma. Assume invece l'iniziativa Afcra in vantaggio nei confronti del Retritone. Afcra in vantaggio. In terza posizione Ips Fecit Noss. Poi in quarta Faraonico. Quindi Mumbai Belfiore. Martin Blond a seguire Loverly Heart Ancora King De Monte a Piero. Si va a completare la piegata. In terza posizione Faraonico. Poi in quarta Ips Fecit Noss. Un paio di lunghezze. Quinto Mumbai Belfiore. Sesto Martin Blond. Quindi Loverly Heart. Ancora King De Monte a Piero. Si va a completare la piegata. Si entra in retta d'arrivo con Afcra in corda. Al suo esterno il Retritone. Poi Faraonico. Quindi a largo Ips Fecit Noss. Per linee esterne a Piero. Quindi Martin Blond. Loverly Heart. Cavalli ai 200 finali. Con il Retritone che passa in vantaggio. Lungo la corda il Retritone. In piena accelerazione. Poi a seguire Half Cry. Nel tratto finale. Retritone per isolamento. Poi a seguire Half Cry. Ips Fecit Noss e a Piero. Bene. Complimenti al team quindi del Retritone. E a Giuseppe Brancato che conquista anche il secondo posto con Half Cry. Sì. Il cavallo sicuramente è di categoria superiore. Il Retritone. Qua a Siracusa lo conoscono tutti. Rientra da un periodo napoletano comunque sia positivo. Oggi ha dimostrato il suo periodo di forma. Bene. Complimenti a tutto il team. Grazie. E quindi si chiude così il convegno di galoppo all'ippodromo del Mediterraneo. Un convegno che ha visto tre prove con dotazione di 11.000 euro, due condizionate e una Maiden. Nel premio Frema Moscò che ha impegnato i tre anni sul doppio chilometro è stato risolto dal cuore del Grago che si impone su Teo Besli. Mentre il premio Esther Phillips, la Maiden che impegnava i due anni, ha visto il successo di Mr. Taxien che riesce appunto a vincere alla prima uscita sul tracciato. Al secondo posto il favorito siciliano bello, quindi l'altra novità, Dreamstime. E poi il tre anni ed oltre, impegnati invece nella condizionata, il premio portiere di notte ha visto l'affermazione di St. Stephen che raggiunge il terzo successo consecutivo e si impone sul compagno di training Salar Glorious, terzo all'Ash the Kraken. Con questo è tutto, l'appuntamento con il Galoppo all'Ipodromo del Mediterraneo è rimandato a sabato prossimo. Arrivederci.